Ciao a tutti da Valerio Villa e da Metropolis Immobiliare, vi do il benvenuto anche oggi in questo nuovo video. Oggi vi accompagno nel bellissimo comune di Morbio Inferione nel Mendrisiotto, siamo prossimi a tutti i principali servizi, al Ser Fontana, all'imbocco autostradale e quello che vi mostrerò è un oggetto davvero molto bello e sicuramente ideale anche per famiglie con bambini. È un duplex con anche un piano mansarda di circa 170 metri quadrati complessivi con due belle terrazze, abbiamo un posteggio doppio in autorimessa e è inserito in un contesto di sole 12 unità indipendenti con un accesso autonomo con piscina e giardino, quindi abbiamo veramente una situazione davvero ideale con una bella vista aperta. Quindi rimanete con me, ma prima di entrare vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube, attivare le notifiche con la campanella e ovviamente farci sapere se avete un immobile da vendere nel canton Ticino, poiché possiamo mettere a vostra completa disposizione oltre 15 anni di esperienza e un team motivato e specializzato. Quindi rimanete con me che ci vediamo tra poco all'interno della proprietà, subito dopo la sigla. Bene, accediamo alla proprietà, come vedete è una proprietà che ha un accesso indipendente, quindi è come essere a tutti gli effetti in una casa singola. Siamo al piano di accesso dove abbiamo la zona living, quindi abbiamo un bel disimpegno, abbiamo questa bellissima zona soggiorno che è una zona soggiorno con un accogliente angolo divani tv tramite il quale possiamo accedere allo stupendo balcone, terrazza possiamo definirla, dalla quale si gode di una bellissima vista aperta. Abbiamo l'affaccio sul giardino condominiale, la piscina, ovviamente è una zona estremamente tranquilla e soleggiata e come vedete alle mie spalle abbiamo, per completare la zona living, anche una bella area pranzo e una grande cucina super accessoriata. Come vedete tutto è come nuovo, poiché è uno stabile che è stato edificato intorno all'inizio degli anni 2000, quindi si presenta veramente molto bene, lo stato di manutenzione è ottimale. Abbiamo anche in questo piano un WC ospiti con lo spazio anche per la lavatrice, quindi una zona giorno sicuramente molto accogliente, molto ben strutturata e ideale anche per chi ha una famiglia con bambini, poiché lo spazio ovviamente non manca, abbiamo questo bel giardino, la piscina, il terrazzo eccetera. Poi tramite la scala che vedete qui alla mia destra possiamo accedere al piano superiore, dove abbiamo la accogliente e capiente zona notte con due belle camere, quindi una prima camera matrimoniale spaziosa con una grande cabina armadi, poi abbiamo una seconda camera e una terza volendo che è attualmente utilizzata come grande vestier cabina armadi che ci consente anche di accedere poi alla parte superiore della casa che fra un po' vi mostrerò, ma per completare l'area notte, quindi il piano superiore a quello dove ci troviamo in questo momento, abbiamo due bagni, uno con vasca e uno con doccia, entrambi di ottime dimensioni e anch'essi sono stati oggetti di una ristrutturazione che è avvenuta nel 2014, dove è stata realizzata anche questa ultima parte che adesso vi mostro della mansarda, una mansarda meravigliosa con questi travi a vista, questi soffitti in legno, abbiamo uno spazio veramente grande dove può essere realizzata eventualmente una grande master o una zona hobby, quindi un oggetto ideale poiché ha tantissimi spazi, possiamo dire un 4,5 di grandi dimensioni, circa 170 metri quadrati, abbiamo anche nella zona notte una bella terrazza, quindi vi mostro qualche immagine degli spazi esterni perché meritano, sono veramente accoglienti e spaziosi e come dicevo un oggetto che si presenta come nuovo, abbiamo in dotazione anche un posteggio doppio nell'autorimessa, una cantina, abbiamo dei posteggi ospiti dedicati alla residenza e quindi tutto ciò che è desiderabile per un oggetto di ampie dimensioni in una zona residenziale appunto nel comune di Morbio Inferiore. Riassumendo abbiamo visitato appunto un 4,5 locali di circa 170 metri quadrati inserito in questo bellissimo contesto di sole 12 unità abitative in questa posizione molto privilegiata, soleggiata e tranquilla nel Mendrisiotto appunto nel comune di Morbio Inferiore, siamo vicinissimi a tutti i principali servizi, al Ser Fontana, all'imbocco autostradale, quindi anche strategico per coloro che cercano una posizione comoda e privilegiata e nella descrizione del video proprio qui sotto vi lascio tutti i dettagli riguardanti questa proprietà così che possiate approfondire ogni informazione e se foste interessati a maggiori informazioni non esitate a contattarci tramite il sito metropolisimmobiliare.com o tramite il numero di telefono che vedete qui sotto così che possiamo fornirvi tutte le informazioni riguardo alla proprietà ed eventualmente anche organizzare una visita se foste interessati a visitarla direttamente sul posto. Io prima di salutarvi vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare le notifiche con la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità relativi agli immobili di Metropolis e ovviamente vi ricordo che se avete un immobile da vendere non esitate a contattarci poiché possiamo mettere a vostra completa disposizione oltre 15 anni di esperienza nel mercato del canton Ticino e un team specializzato e motivato nel portarvi attraverso a tutte le fasi complicate e spesso rischiose di una mediazione immobiliare. Quindi non esitate a contattarci se avete questa esigenza io vi ringrazio come sempre per essere stati con me anche oggi nella visita di questo stupendo 4,5 locali a Morbio Inferiore vi auguro una splendida giornata e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao